Allora amici di special, pista di Valle Lunga, CIV, in compagnia di Niccolò Canepa, team Ducati Junior, Ducati 749, Supersport. Niccolò, a te la parola, spiegaci un attimino come si gira a Valle Lunga col tuo bicilindrico. Ok, ciao a tutti intanto, qua sto entrando per il primo turno di prove libere nella pista nuova di Valle Lunga, sono entrato subito tranquillo perché la pista anche per me era nuova, quindi ho fatto un po' di fatica all'inizio di impararla. Grazie a tutti.